Missione compiuta dal giovane e impertinente bitonto di mister Valeriano Loseto, che al debutto con una rete di tedesco espugna il Novi di Angri e mette Fieno Prezioso in cascina per il prosieguo del campionato. Il tecnico baresi sistema il baluardo Gianfreda, capo delle sentinelle arretrate a protezione di Diamè. In mezzo Navas e Acampora fanno legne e costruiscono trame. Davanti il duo tutto campano figlioli a tedesco. Il collega Stefano Liquidato sceglie Scarpato fra i pali, Mané governa la difesa, Ascione e Fabiano fiammeggiano classe. Celiento e Longo sono sempre minaci. Sei minuti e vantaggio a ospite. Navas si invola sulla fascia e scodella al centro. Volè del 10 che insacca. Dopo un periodo di spaisamento, vehemente è la reazione dei padroni di casa. Intorno al 24esimo per ben due volte ci prova Marasco, prima con un cross maligno, poi con un fortunoso rimpallo in area. Nulla di fatto. 120 secondi, traversone da sinistra e inzuccata dell'indemoniato 21 che si bila accanto al palo. Alla mezza, a corner da sinistra, la testa di Longo ruba il tempo ai guantoni di Diamè, sfera sopra la traversa. Minuto 32, rasoterra di Longo attraversa tutta l'area ospite, valanga di brividi e nulla più. I leoni resistono alle sfuriate dei cavallini e poco dopo la mezza, sempre alla punta ex gladiator, frantuma il palo ad un sospiro della riga bianca, su torre involontaria di Ungredda. Con i cambi giusti, i bitontini affrontano la ripresa con maggior saldezza. All'ottavo ancora Marasco in becca a Longo, strepitosa uscita di Diamè. Al decimo, Pugliesi rapido in controgioco e mancino largo di Figliolia. A cinque dal termine, botta radente da fuori ma centrale di Giorgio. Al primo di recupero, Siluro disperato di Kliaic, fuori misura. I grigiorossi premono in vano, i neroverdi tengono botta e così artigliano meritatamente i tre punti.